ben trovati a tavola da daniela siete a casa mia oggi prepariamo il ciambellone marchigiano si quel ciambellone semplice semplice con la granella di zucchero sopra senza tante pretese così una volta nasceva poi si è arricchito di uvetta e poi negli ultimi anni si è arricchito anche di cioccolata quella crema alla nocciola messa dentro per farcire questo ciambellone per farlo mangiare ovviamente anche ai bambini oggi facciamo il ciambellone tradizionale con l'uvetta ovviamente perché a me piace tantissimo dunque per preparare il ciambellone o il ciambellotto come lo chiamano nelle marche ovviamente io non ce la farò mai chiamarlo in quel modo avremo bisogno di 600 grammi di farina due tre uova intere più un tuorlo e l'albume che tolgo da là lo metto in un bicchiere e poi lo vado a mescolare con un po di latte e utilizzerò questo preparato per spennellare il ciambellone prima di infornarlo poi serviranno 100 millilitri di latte 130 millilitri di olio di semi io utilizzo quello di girasole 150 grammi di zucchero un pizzico di sale la vanillina e poi il lievito io utilizzo il lievito in polvere per dolci che poi è perfetto anche per i prodotti salati lievito elva perché non è chimico ed è perfetto veramente fa diventare quei dolci belli gonfili evitati in questo caso anche piuttosto friabile non perché ciambellone ha quel vizio di rimanere pesante no e se non lo vai a pucciare da qualche parte non è che si mangi poi così tanto piacevolmente bene allora che cosa dobbiamo fare innanzitutto per preparare questo ciambellone dovremo mettere la farina sono 600 grammi di farina io non la metto tutta perché cerco sempre di tenerne una parte caso mai fossero pochi liquidi e quindi non c'è bisogno poi di aggiungere altri liquidi mescolo insieme lo zucchero la vanillina quindi il gusto che a me piace davvero tanto poi voi potete magari utilizzare la buccia d'arancia però io preferisco la vanillina lo zucchero mettiamo anche il lievito la bustina di lievito la mettiamo tutta quanta e andiamo un po così a mescolare questi ingredienti secchi e adesso avremo bisogno di unire insieme a non ho preso una cosa facciamo così la farina la trasferiamo qua mescoliamo insieme tutti quanti i liquidi quindi il latte l'olio mettiamo anche le uova leggermente sbattute e uniamo questi liquidi agli ingredienti secchi cerchiamo di mescolare prima con una frusta poi ovviamente la frusta non è più sufficiente visto e considerato che allora questo è quello che potete vedere la frusta tra poco non sarà più sufficiente quindi mi sono messa vicino anche una spatola di legno la classica spatola di legno che poi si utilizza non si utilizza è giusto non è giusto perché assorbe tutti i vari odori ingredienti che va a utilizzare utilizzo queste spatole di legno una soltanto per i dolci una per i salati sono un po' maniaca per queste cose visto è considerato che mi piace non mescolare troppo gli ingredienti come vedete io ho tenuto da parte un po di farina e ho fatto bene perché non serve tutta quanta quindi dei 600 grammi tenete nella parte 50 60 grammi poi vedete in questo momento mescolo unisco anche l'uvetta che ho precedentemente ammollato in acqua calda bollente lo sciacquata perché l'impurità l'uvetta ce l'ha lo sappiamo tutti quanti lavata strizzata ammollata e poi unita al ciambellone in questo caso è il momento di mettersi ad impastare quindi impastare come impastare con le mani perché è l'unica soluzione preparare un ciambellone come vedete quando abbiamo tutti gli ingredienti pronti è davvero facile non è che ci vuole più di tanto mescoliamo bene con un tarocco che non è un arancio ma semplicemente una spatolina di plastica ecco qua poi un giorno voglio mettermi a giocare con voi con i nomi dei vari utensili che si vanno a usare in cucina bene allora adesso mettiamo l'impasto del ciambellone che abbiamo preparato sulla su una tavola di legno e andiamo ad amalgamare bene gli ingredienti come vedete non c'è bisogno di chissà quale preparazione non è difficile niente non è niente difficile in cucina l'importante è avere proprio la voglia di sporcarsi le mani in questo caso ho messo un guanto per il semplice fatto che poi dopo devo infornare devo andare a prendere quindi magari non ho a disposizione nessuno che mi dà una mano per spegnere la telecamera spero di non combinare un caos rimettere in pausa rifar partire tutto il resto quindi in questo modo cerco di tenere più pulito il tutto ecco qua praticamente il ciambellone è bello che pronto come vedete ha bisogno ancora di un po di farina perché si attacca troppo alla tavola noi in questo caso facciamo due filoncini della quale sono due filoncini senza cioccolata però voi potete fare anche un filoncino con la cioccolata e uno senza potete evitare di mettere l'uvetta io la metto perché mi piace non so voi ma io adoro l'uvetta soprattutto quando poi faccio le torte di mele ecco poi ci sono delle persone che dicono tu metti l'uvetta dappertutto mettitela un po da qualche parte per il semplice fatto che che ci sta bene ecco poi con un ciambellone come questo che rimane molto asciutto se noi mettiamo l'uvetta che anche in cottura resta morbida e succosa è un piacere no quando tu vai a mangiare il ciambellone ti ritrovi con qualche cosa di buono da da masticare sotto i denti bene dividiamo questo ciambellone in due abbiamo due filoncini praticamente avete visto quanto è facile preparare il ciambellone marchigiano gli ingredienti sono semplicissimi la farina le uova il latte lo zucchero l'olio di semi di girasole il lievito una bustina e ci siamo praticamente adesso andiamo subito a mettere quello che abbiamo preparato sulla teglia che ho precedentemente rivestito di carta forno in modo che almeno mi trovo avvantaggiata con la preparazione vedete non si è attaccato niente poi sulla tavola è rimasto tutto così bello perfetto noi filoncini ce li abbiamo e adesso per per completare l'opera allora si avrei bisogno adesso di un'altra cosina di pulire perché poi allora un po' di latte metto se si apre si eccoci qua un pochino di latte giusto un goccino mescoliamo l'albume con il latte giusto per farlo amalgamare e poi con un pennellino andiamo a spennellare quelli che sono i filoncini che abbiamo preparato in pochissimi minuti sono dieci minuti quanti tempo quanto tempo ci abbiamo messo davvero poco ci vuole pochissimo a preparare il ciambellone tipico marchigiano gli ingredienti li avete sicuramente a casa perché uova farina latte e olio perlomeno io quando vado a fare la spesa se non ho queste cose a casa me le compro me le tengo a disposizione bene sento il forno che mi dice anche che è già arrivata temperatura quindi io sono pronta prontissima poi che ci faccio con quello magari ci preparo qualche altro dolcetto adesso vediamo intanto qui mettiamo un po di granella di zucchero perché questa ci sta assolutamente il tipico ingrediente caratteristico del ciambellone marchigiano la granella di zucchero non deve mai mancare assolutamente bene allora il ciambellone marchigiano è pronto per andare in forno e adesso metto in pause poi ci vediamo tra una quarantina di minuti 30 40 minuti fra il tempo giusto della cottura del ciambellone marchigiano a tra poco ed eccoci qua di nuovo insieme l'avete visti eccoli i miei ciambelloni belli pronti appena sfornati 35 minuti di cottura allora 180 gradi il forno prima inizio con il forno statico in modo che vada a cuocere all'interno il ciambellone poi dopo 20 minuti lo passo alla modalità ventilata quindi dallo statico al ventilato sempre 180 gradi e così il ventilato da questa bella colorazione dorata che cos'è questo questo è il bucatino siccome a me non piacciono i bucatini ne ho da consumare allora lo utilizzo per vedere se all'interno il prodotto che vado che ho cotto sia cotto beh praticamente ecco qua esce fuori perfettamente asciutto non non resta niente quindi il ciambellone è pronto ragazzi ci vuole davvero poco praticamente ci vuole più a dire che a fare a raccontare una ricetta e compagnia bella allora eccoci qua questo è il ciambellone marchigiano per preparare questo ciambellone marchigiano vi servono 600 grammi di farina anche 550 dipende dalla grandezza delle uova e da quanto liquido assorbe la farina poi due uova più due tuorli due uova intere e due tuorli metto giù perché è bollente ragazzi appena sfornato e poi servono 100 millilitri di latte 150 grammi di zucchero semolato la farina un doppio zero semplice 330 millilitri di olio di semi di girasole io utilizzo una bustina di lievito elva perché fa crescere così bene lascia la fragranza intonza nel dolce che si va a preparare la vanillina e il sale un pizzico di sale praticamente poi dopo io ho messo dentro anche l'uvetta nel ciambellone perché a me piace non l'ho farcito con la cioccolata però potete anche farcirlo con la cioccolata per arricchirlo così per ingolosire anche i bambini ma questo dolce così perfetto domani mattina per colazione da pucciare nel latte caffè e beh ragazzi che dire una colazione più sana di questa dove la andiamo a trovare l'albume poi sopra per spennellare insieme un pochino di latte e la granella di zucchero in forno per 35 minuti a 180 gradi per i primi 20 minuti in modalità statica poi gli altri minuti rimanenti in modalità ventilato per dare il bel colore dorato questo è il ciambellone marchigiano non trovate tutta la ricetta i vari procedimenti nel blog a tavola da daniela e vi ricordo mescolate tutti gli ingredienti a parte 50 grammi di farina dal peso totale ingredienti secchi in un'altra ciotola gli ingredienti liquidi poi li unite mescolate ed è fatto il ciambellone non non ha bisogno di chi sa quali preparazioni vari elettrodomestici niente questo amici è il ciambellone marchigiano appena sfornato ci vuole più a dire che a fare una bontà del genere quindi magari se avete tempo a disposizione visto e considerato che magari con tutto quello che sta succedendo in questo momento in italia e nel mondo siete a casa costretti non potete uscire preparate il ciambellone marchigiano e poi ditemi e se vi avanza rimane un pochino asciutto il vinsante avete presente da pucciare lì oppure la mattina colazione con latte caffè ci troviamo alla prossima ricetta vi aspetto ciao